Buona giornata, prima edizione del tv giornale di Telestense del 4 luglio, apriamo subito tra pochissimo parlando di pericolo incendi, ovviamente conseguenze della forte siccità che sta caratterizzando tutto il bacino padano, parleremo anche di Covid, ancora molti numeri legati ai nuovi contagi, cresce la pressione in regione, ci occuperemo però anche di saldi estivi, avvio ok, la domanda è superiore agli anni scorsi, così come ci occuperemo di Camera di Commercio e di Fiera, nasce una nuova sinergia che prenderà via ufficialmente da domani, poi varie notizie legate agli appuntamenti e anche aggiornamenti legati al calcio. Ma come dicevo partiamo subito parlando di pericolo incendi perché in tutta l'Emilia Romagna fino al 28 agosto ci sarà grave pericolosità in seguito a questo rischio, siccità e alte temperature sicuramente non aiutano. Emanato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, d'intesa con la direzione regionale dei vigili del fuoco e il comando regione e carabinieri forestale, il provvedimento stabilisce il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producono fiamme, scintille o bracci nei boschi e nei parchi e vieta gli abbruciamenti di residui vegetali e stoppie, all'origine ad esempio del maxi incendio di poco più di una settimana fa che paralizzò il traffico. All'aumento dei divieti corrisponde un inaspiramento delle misure, chi viola le norme o adotta comportamenti pericolosi dicono dalla regione, le sanzioni potrebbero arrivare fino a 10.000 euro, sanzioni anche sotto il profilo penale. E parleremo di siccità ancora nelle prossime edizioni del TV giornale di Telestense, ma adesso ci occupiamo di Covid perché in questa prima estate caratterizzata dall'elevato numero di casi continua a essere alto il numero appunto dei contagi giornalieri, cresce anche la pressione ospedaliera ma ampiamente sotto controllo. Vediamo dunque gli aggiornamenti dei dati. Sono 473 nuovi positivi nel Ferrarese dove non si registra nessun decesso per complicazioni apportate da Covid, 6 decessi a livello regionale dove la nuova ondata continua a registrare un numero alto di nuovi contagi, 6.153 nuovi positivi in Emilia-Romagna, oltre 3.700 nuovi guariti. Crescono i ricoveri nei reparti Covid, stabili invece le terapie intensive a livello emiliano-romagnolo. Questi dunque gli ultimi dati, vi aggiorneremo in serata sulle ultime novità, ma adesso invece parliamo del Taser che da oggi arriva anche a Ferrara. Il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha annunciato questa novità anche per altre città italiane ed Emiliano-Romagnole, strumento in più dunque per polizia, carabinieri e guardia di finanza. Secondo Molteni, nel 60% dei casi in cui è stato usato finora, il Taser avrebbe ottenuto l'effetto voluto, ossia fermare un soggetto pericoloso senza che il Taser fosse propriamente attivato. Per il sottosegretario, allo scorso 7 giugno, su 99 casi totali di utilizzo della pistola e impulsi elettrici, 35 situazioni si sono concluse con la sola estrazione del dispositivo. In 24 è stato sufficiente l'azionamento dell'arco elettrico di avvertimento, mentre in 39 casi è stato necessario il lancio dei dardi elettrici. E parliamo anche dei saldi che hanno preso il via lo scorso sabato, ovviamente questo anche per quello che riguarda la provincia di Ferrara. I dati sono incoraggianti, li sentiamo nel servizio. I saldi in Emilia-Romagna e a Ferrara al via sabato 2 luglio sotto i migliori auspici, nonostante i due anni di pandemia e l'inflazione dovuta alla guerra abbiano inciso su tanti esercizi che nei casi peggiori erano registrato un calo delle vendite del 30% su base annua. Secondo il rappresentante regionale di Fismo Confesercenti, questi saldi iniziano con una buona domanda, che in alcuni casi supera addirittura il periodo pre-pandemia, trend quindi per ora positivo ed è quello che spera anche Ascom, secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia dovrebbe spendere in media più di 200 euro, circa 88 euro pro capite, per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di euro. Le stime di spesa media famiglia per questi saldi estivi sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale, soprattutto sulle coste e nelle città d'arte. Così Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia Confcommercio, commenta l'avvio dei saldi estivi con un occhio anche su Ferrara, essendo Felloni presidente dell'Ascom provinciale, saldi che per Felloni potranno rappresentare così una vera opportunità, considerando il generale aumento dei costi e le previsioni di crescita dei listini delle prossime collezioni di moda. E parliamo adesso di una nuova sinergia tra Camera di Commercio e Ferrara Fiere, supportare le imprese ferraresi nel far conoscere ai consumatori, attraverso la partecipazione in forma individuale o in uno stand collettivo, ad iniziative e manifestazioni in programma sul territorio provinciale, comprese quelle in svolgimento presso il polo fieristico di Ferrara Fiere. I propri prodotti e servizi e sviluppare l'obiettivo della Camera di Commercio che nelle scorse settimane ha approvato un'apposita misura contributiva per abbattere le spese per la locazione di spazi espositivi, l'allestimento degli stand, l'acquisto di servizi di hostess e steward, il trasporto a destinazione, assicurazione e movimentazione di materiali e prodotti destinati alla manifestazione, ma anche la realizzazione di materiali di comunicazione aziendale da esibire o distribuire in fiera come brochure, cataloghi, filmati o presentazioni aziendali e inserzioni pubblicitarie. Secondo Paolo Govoni, fiere, festival e manifestazioni locali sono un potente strumento di comunicazione che contribuiscono a formare l'immagine dell'azienda. Posizione, allestimenti, qualità del personale che accoglie i visitatori, documentazione distribuita, tutto contribuisce a formare l'immagine aziendale. Per Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere, il bando della Camera di Commercio, che ringrazia per il lavoro interessante a sostegno del sistema imprese, accrescerà ulteriormente l'attrattività di Ferrara Fiere, sempre più impegnata a rispondere alle richieste del mercato fieristico italiano e internazionale e a soddisfare le nuove esigenze del territorio ferrarese, anche attraverso la realizzazione e l'utilizzo di strutture polifunzionali che ne garantiscono un utilizzo flessibile rispettando i requisiti di sostenibilità ambientali e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi di percorrenza. Ulteriori dettagli ve li daremo poi nelle prossime edizioni della TV Giornale di Telestense. E torniamo a parlare invece adesso della nuova società Ferrara Sviluppo Imprese. Rimaniamo sempre in Camera di Commercio. È stata costituita da CNA, Conf Artigianato e Conf Cooperative e l'obiettivo è lo sviluppo del territorio e delle imprese della provincia di Ferrara. Sentiamo a questo punto i vertici delle tre associazioni di categoria. Noi in un'ottica di collaborazione con tutti gli enti pubblici e con tutto il mondo delle imprese abbiamo messo insieme per il momento i nostri staff, 10-12 persone, per ragionare di progetti concreti attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali. Su inizieremo tre tematiche. La prima è tutta la questione della logistica in questo territorio che vogliamo rivedere, riprogettare con un'ottica green e anche con una grande attenzione al tema delle comunità energetiche. Il secondo grande tema sul quale andremo a lavorare riguarda la transizione ecologica e digitale delle nostre aree artigianali e delle aree industriali, che in questo momento ne hanno tanto bisogno e anche in questo caso dovremo andare a intercettare fondi pubblici per garantire uno sviluppo di queste aree. Il terzo è un tema molto sentito, e cioè i modelli di sviluppo dell'artigianato e della cooperazione, soprattutto nell'etica di impresa, soprattutto nella gestione economica, finanziaria e anche del capitale umano, che nelle nostre aziende è davvero l'aspetto centrale. Abbiamo intanto scelto lo strumento della società, che è quello più stretto dal punto di vista organizzativo, perché ce ne potevano essere altri, ma una società SRL ci costringe a stare insieme in maniera molto forte. Poi lo staff e l'investimento di ciascuna organizzazione è importante perché capiamo che abbiamo bisogno di fare un'operazione di investimento forte per conseguire gli obiettivi alti che la nostra parte politica ci ha dato. L'economia viaggia in maniera vorticosa e tutti i processi, abbiamo visto anche con i ragionamenti legati al PNRR, prevedono che bisogna essere pronti nel momento in cui ci sono le situazioni che vengono create. Quindi la nostra proposta va in quella direzione, di essere veloci, snelli e soprattutto utili. Questo è il nostro obiettivo. Se siamo utili, ricopriamo il nostro ruolo e raggiungiamo gli obiettivi. I protagonisti dello sviluppo sono le imprese e le istituzioni di prossimità. Pensare ad un sviluppo territoriale senza la presenza di queste due necessarie componenti, noi crediamo che sia sbagliato. Per cui il protagonismo delle imprese si concretizza attraverso anche questa offerta di servizi che le nostre tre organizzazioni hanno deciso di mettere in comune. I rapporti con Sipro sono orientati alla massima collaborazione, di carattere istituzionale e anche di carattere operativo. Questo è uno strumento in più per lo sviluppo delle imprese e del territorio ferrarese. I rapporti con Sipro dovranno essere assolutamente di collaborazione perché come abbiamo detto le sfide del territorio sono talmente alte che le forze pubbliche e private devono collaborare insieme per conseguire obiettivi che o conseguiamo in questo periodo storico o difficilmente in altri ambiti e in altri anni possiamo conseguire. Usciamo da un weekend ricco di eventi e di iniziative di vario genere, sia divertimento ma anche a livello culturale. Partiamo dal Teatro Comunale che ha ospitato sia venerdì sia ieri sera il Don Giovanni, grande successo dunque per questa opera e alla prima era presente anche il ministro Patrizio Bianchi appunto presente all'Abbado dal Teatro di Ferrara ha lanciato peraltro un appello dicendo la musica in tutte le scuole. Lo sentiamo. È stato un applauditissimo Don Giovanni quello che ha debuttato venerdì 1 luglio al Teatro Abbado. La nuova produzione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara è stata acclamata più volte durante lo spettacolo con un applauso finale durato quasi sei minuti. Lo spettacolo, replicato domenica 3 luglio alle ore 20, poi volerà in Corea del Sud dove è in cartellone il 7-8 ottobre alla Daegu Opera House. Il dramma giocoso con intramontabile musica di Mozart sul libretto di Lorenzo Daponte è stato interpretato da un cast scelto da Leone Magerra, direttore musicale della produzione ferrarese e noto scopritore di talenti del bel canto insieme a Daniel Smith che ha diretto l'orchestra Città di Ferrara. Il ministro dell'istruzione, il ferrarese Patrizio Bianchi, presente alla prima, ha incontrato il maestro Magerra ringraziandolo per l'operazione compiuta. Un Don Giovanni bellissimo, un Don Giovanni che ha riscoperto l'essenzialità della musica di Mozart, la capacità, la straordinaria modernità del testo di Daponte, ma soprattutto la freschezza, la freschezza che questi ragazzi sono stati offri a tutti noi. E una cosa in più, il bisogno assoluto che abbiamo di musica. La musica in tutte le scuole, la musica per tutti. Il ministro Bianchi era presente anche sabato sera all'iniziativa della Notte Rosa tenutasi in Certosa, Certosa però che ha ospitato due eventi legati alla Notte Rosa, la seconda si è tenuta ieri mattina all'alba con un concerto che ha portato il tutto esaurito alle 6 del mattino. Vediamo. La musica ha salutato l'arrivo del giorno incertosa nel concerto dell'alba che domenica mattina ha segnato circa 600 presenze dopo le altrettante registrate sabato per l'esibizione serale nella stessa location dell'orchestra Città di Ferrara e del coro polifonico Santo Spirito con la direzione del maestro australiano Daniel Smith e con alcuni solisti selezionati dal maestro Leone Magera. Per l'occasione era presente anche il ministro Patrizio Bianchi. La musica è stata così il culmine della programmazione della Notte Rosa Ferrara che ha visto nel fine settimana anche le aperture straordinarie e serali del Castello Estense di Porta Paola. Domenica mattina a salutare l'alba dei suoni alle 6 nel Giardino della Certosa è stato il quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi che ha proposto un repertorio che ha spaziato da C'era una volta il West di Ennio Morricone a Libertango di Astor Piazzolla e poi altri grandi classici con Bohemian Rhapsody dei Queen Summertime di George Gershwin le colonne sonore di celebri film come i Blues Brothers il Mago di Oz ed altri celeberrimi brani attualissimi come Shape of You di Ed Sheeran. Dopo l'esperienza dell'anno scorso quest'anno abbiamo raddoppiato gli appuntamenti musicali in Certosa ha sottolineato l'assessore Matteo Fornasini mentre il presidente della Holding Ferrara Servizi che ha sede proprio in Certosa Luca Cimarelli ha ricordato che la Notte Rosa non è solo riviera ma anche città d'arte. E dalla città adesso torniamo a parlare della sagra di Mezzogoro conclusa nei giorni scorsi sagra che è stata inaugurata dai ciclisti della squadra Bardiani arrivati direttamente dal Giro d'Italia accompagnati dall'ammiraglia storica del 1958 durante la sagra si sono potuti ammirare le bici e le maglie del Giro dai tempi gloriosi di Fausto Coppi fino a quelle dei grandi successi di Marco Pantani vediamo Fausto Pezzi in questo piccolo corner di storia con tanta storia per parlare di quello che Ghigi ha fatto in questi anni per non dimenticare con i campioni Sì siamo venuti qui a Mezzogoro a portare un po' di ricordi di quegli anni sono 60 anni che proprio 60 anni fa la Ghigi correva al Giro d'Italia e quindi c'è stata questa idea di portare un po' di ricordi di quella squadra di portare sempre avanti la storia del ciclismo e soprattutto la storia di questo marchio che ha dato tanto alla storia del ciclismo e adesso è ritornato ancora a sponsorizzare una squadra di professionisti e quindi ci è sembrato giusto e bello ricordare un po' la storia da dove è venuto Pezzi dicevamo unici ce ne può solo citare qualcuno abbiamo visto dei nomi esemplari Pantani, Coppi ma solo per citarne qualcuno Ma qui c'è un po' la storia diciamo di mio padre che è stato prima un corridore professionista negli anni 50 quindi nel periodo di Coppi e poi dopo è stato direttore sportivo di tanti corridori tra cui anche della Ghigi e diciamo c'è un po' la storia della sua vita a partire dalla maglia di Fausto Coppi del Tour de France del 52 quello che mio padre ha corso con lui in nazionale italiana e poi fino ad arrivare appunto alla Salvarani alla Ghigi che sono squadre sono state sue squadre e poi a Marco Pantani che è stato diciamo l'ultimo corridore che lui ha voluto rimettere in bicicletta dopo gli incidenti che aveva avuto e dopo Marco ci ha regalato quelle fantastiche emozioni nel giro del Tour del 98 questa storia dicevamo per gli appassionati però potrebbe essere anche storia da spiegare a un bambino che per la prima volta entra magari in questo piccolo spazio e vede questa esposizione con queste biciclette storiche sì perché diciamo che oggi il ciclismo è uno sport molto tecnologico è molto moderno con dei materiali addirittura di derivazione spaziale sulle biciclette quindi c'è uno studio molto importante sull'aerodinamica sulla leggerezza dei materiali però appunto è bello raccontare e far vedere da dove viene tutto questo quindi qui ci sono bici in acciaio con i primi cambi a mano senza ancora i deragliatori ci sono le bici la transizione che porta dal ferro all'alluminio fino a raggiungere al giorno d'oggi la tecnologia più moderna quindi è interessante per uno che non conosce la storia della bicicletta perché può vedere una piccola evoluzione attraverso le cose appartenute ai campioni Franco Canciani lei ha questa maglia in mano perché questa maglia lei la conosce se la ricorda bene lei ha corso con questa maglia nel 61 ero professionista con la Ghigi ero onorato di correre con la Ghigi perché avendo fatto il militare a Rimini ho conosciuto bene i romagnoli e per me hanno una sensibilità una cortesia che per me sempre gioisco con loro poi venendo adesso da da Monfaicone e ho visto tutta la vostra campagna così verde che da noi manca l'acqua e mi ha gioito proprio sono contento però mi dispiace di una cosa non ho portato una foto che devo dare al signor al figlio che si chiama Fausto Fausto Pecci non Fausto Coppi perché ho una foto della Ghigi intestata la gazzetta proprio sarà bellissima le chiedo il ciclismo oggi com'è cambiato è sempre più difficile perché già con le strade col traffico i ragazzi non hanno possibilità di allenarsi mentre quando ero io giovane se mi alzavo alle 6 per 2-3 ore non c'era nessun auto per la strada poi è anche più difficile perché questo fatto che tanti altri sport prendono tanti soldi e chi lo fa invocare a un giovane correre in bicicletta rimaniamo sullo sport come sapete manca poco più di un mese alla ripresa del campionato di Serie B vediamo dunque come procede il calcio mercato per la SPAL tre acquisti tutti giovanissimi per la SPAL che inizia così il suo calcio mercato estivo 2022 ultimo in ordine cronologico al capitolo arrivi l'attaccante Nicola Rauti in arrivo dal Torino a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione 22 anni nato a Legnano ha militato nel Monza nel Palermo nel Pescara in Serie C in nazionale è arrivato fino all'Under 19 arriva in prestito ma dalla Fiorentina invece il difensore Cristian Dallemura 20 anni ha anche debuttato in massima serie proprio contro la SPAL al Mazza nell'ultima giornata di Serie A 2019-2020 poi il prestito alla Regina alla Cremonese al Pordenone in Serie B è capitano dell'Under 20 a Zurra in difesa è arrivato anche Marco Varnier acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto dall'Atalanta classe 98 nato a Padova Varnier arriva dal prestito al Como in Serie B e sono state numerose le sue presenze con le nazionali azzurre giovanili e questa era l'ultima notizia per questa edizione del TV giornale di Telestense che torna come sempre alle 19.30 ulteriori aggiornamenti su telestense.it e sui nostri canali social ancora una volta dunque grazie per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata azzurre 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 Grazie a tutti